Qualcosa è cambiato tra Damon e me. Più di quanto fosse cambiato prima, quando sono con lui. Mi sento imprevedibile, come se fossi libera. Solo che io sento... Che cosa senti? E come se tutto ciò che provavo per lui prima di diventare un vampiro... Se fosse amplificato, i tuoi sentimenti per lui si sono amplificati. Quindi ora devo capire cosa significano questi sentimenti. Grazie per la visione! 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 Non mi dispiace il fatto che conoscerti mi abbia fatto riflettere su ogni cosa e che da morta sia stata tu più di chi di quell'altro a farmi sentire via. Tu sei una persona che è bella. Hai preso tutte le decisioni sbagliate e di tutte le scelte che ho fatto. Questa sarà di sicuro la peggiore, ma a me non dispiace di essere innamorata di te. Sì, mamma. Bello. Sì. Sì, mamma.